Hanno vinto i caduti, non hanno vinto i loro assassini, perché se Matteo Manessina dell'Ara è stato arrestato lo si deve anche alla capacità rivoluzionaria di Rocco Chimici. Primo magistrato in Sicilia ad avere una visione diversa nel contrasto alla malavita. Il governo è impegnato senza impegnamenti e senza alcuna tentazione di marcia indietro nella lotta, anzi con grande determinazione, nella lotta contro la mafia, la camorra, andrà in meta la Sacra Corona Unita, non soltanto all'interno del territorio nazionale, ma ovunque sia indispensabile contrastare il crimine organizzato. Grazie a tutti.